Grazie. Buongiorno. 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 Buongiorno amici, buongiorno a tutti. Buongiorno amici, oggi siamo in Ercolano. Stiamo visitando il bello parco archeologico di Ercolano. Con questo video sarò insieme a voi in questo bello, bello, bello. Vedremo molti luoghi e strade. Spero che vi piacerebbe piacere il video. Scriveretevi i commenti, i suoi like. E non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Nella descrizione del video troverete il link per preparare i vostri ticetti o i vostri tour quando sei qui in Ercolano. E anche alcune ricordazioni per dove restare quando sei in Ercolano. Andiamo amici. Andiamo a visitare il parco archeologico di Ercolano. Quindi ci sono due entrambi. L'unico è qui. 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 L'unico è qui dove ho parco il mio auto. E dove troverete qualche paura per il parco. Perché quando sei entrando dal l'interno, che è là, è più difficile trovare un paura per il parco. E poi sei dentro questo bello. L'unico è qui. Questo bello è qui. Questo è il Portico. E tutti sono qui. E l'unico è qui. Proprio. E l'unico è qui. L'unico è qui. E l'unico è qui. Grazie. 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 Ah oui, il y a des mortes caramans dedans. Il y a des squelettes. Grazie. la plage on était surpris par la chaleur il vio sono morto ovviamente sur place Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 . a tutti. 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 . a tutti. a tutti.